Era la primavera del 1998 quando Teleducato decise di passare all'attacco. C'era una pagina nuova da scrivere, più telegiornali, più programmi, più informazione. Fu tutto molto rapido e appassionante e furono i giorni dell'esordio di Parma Europa. Andava in onda di giovedì e la prima puntata fu subito dedicata all'elezione del nuovo sindaco. Da lì a poche settimane si sarebbe votato ed Elvi Ubaldi stava per lanciare la sfida a Stefano Lavaggetto e in studio c'erano tutti e due. Ubaldi non aveva ancora sciolto la riserva, incalzato, lui prendeva tempo. Ma la decisione era presa e alla fine fu clamorosamente eletto. Di Parma Europa Ubaldi è stato sempre protagonista assoluto, mattatore senza concorrenti. Per anni il programma è stato contrassegnato dalle sue presenze arrembanti, magnetiche nell'eloquio. Dei tempi televisivi non si interessava, voleva chiarire i concetti, dare profondità, cesellare il pensiero. L'aneddotica è infinita. L'ultimo duello tra lui e Albertina Sogliani in un torido pomeriggio di fine maggio del 2002 a tre giorni dal voto dovemmo registrarlo. In studio i due candidati si erano portati i loro sostenitori, ma Ubaldi non gradiva la presenza di alcuni ospiti convocati dalla Sogliani. Erano polemisti, fieri avversari politici di Ubaldi e lui non si fidava. Occorse un'estenuante trattativa in strada con la registrazione bloccata per ore per trovare un accordo. Alla fine Ubaldi diede il via libera. Due anni dopo a Parma Europa c'era un dibattito sul degrado dei quartieri cittadini. Lui seguiva la trasmissione da casa in tv. Ascoltando gli ospiti della puntata, al colmo della rabbia uscì di casa e si presentò in studio. Erano le 22.30, la trasmissione doveva terminare alle 23, ma andò avanti fino a mezzanotte. Pochi mesi dopo la stessa scena, questa volta Ubaldi telefonò in redazione. Mi stanno chiamando decine di cittadini indignati, disse. State dicendo cose assurde, urlò per alcuni interminabili minuti, per poi argomentare a mente fredda la mattina dopo. Un'altra puntata ancora non la digeri proprio. Fece telefonare alla sua segretaria pregandoci di togliere la replica della trasmissione, cosa che non avvenne. Nel 2005 il comune decise di chiudere il centro sociale Mario Lupo in piazzale Allende. Gli antagonisti erano sul piede di guerra. Fu l'argomento di una puntata di Parma Europa. I manifestanti assediarono la sede della tv, protetta da tre blindati dei carabinieri e con decine di poliziotti in tenuta antisommossa. Ubaldi fiutò l'aria e si presentò in studio due ore prima del programma. Altri ospiti, a cominciare da Moine e D.A.N., furono oggetto di pesanti contestazioni. Parma Europa e Ubaldi, una lunga storia, andate in onda per anni. Di sicuro quell'ospite d'eccezione ci mancherà.